Anni e anni di ricerca, passione e lavoro andati in fumo in pochi attimi. Attimi di dolore interminabili, quelli vissuti sabato scorso da Leonardo Delia, titolare dello storico negozio di musica alternativa Black Marmalade Records, che a un paio di chilometri all'arrivo a Siena per l'evento Lars Rockfest, ha visto andare a fuoco il suo furgone con a bordo centinaia di articoli. Un guasto al mezzo che in pochi istanti si è trasformato in fiamme, finendo per inghiottire un legame profondo di 50 anni quello creato tra Leonardo e la sua intima raccolta musicale. A due chilometri d'arrivo del festival abbiamo notato un leggero pennacchio di fumo e un odore di gasolio che fuoriusciva dal mezzo, avevamo un furgone a disposizione. Ci siamo fermati immediatamente per cercare di capire, perché le spie tra olio, acqua, eccetera, non c'era nessuna accesa e non c'era temperatura assolutamente che andava su. Ci siamo fermati, il tempo di scendere dal furgone, abbiamo provato ad aprire il cofano del furgone, è stato impossibile di vampata, ha una fiammata impressionante che nel giro di 10-15 minuti si è divorato praticamente tutto il furgone con tutto il contenuto. Istanti tremendi perché vedi sparire praticamente tutta la tua attività, ma al di là dell'attività vedi il valore affettivo degli oggetti che avevi, dal collezionismo di dischi che si fanno o altro. Abbiamo dovuto attendere 40 minuti che per l'arrivo dei vigili del fuoco, che venivano da Montepulciano, quindi sono stati 40 minuti devastanti, perché vedi che tutto sparisce e si trasforma in un magba nero, perché all'interno, essendo vinile, tutti oggetti in qualche modo che sono facilmente infiammabili, alla fine è venuto fuori un grandissimo blob all'interno del furgone stesso, interamente nero, che era pieno di merce, totalmente sciolta e andata a fuoco. Da vinili a cd, oltre a gadget e accessori. A bordo del furgone c'era l'intero catalogo del negozio di Via Cattaneo. Attività che ora appare visivamente spogliata da quella ricercata a collezione che la rivestiva. Una storia che ha toccato il cuore di molti, soprattutto di coloro che, innamorati allo stesso modo della musica di un tempo, stanno donando in questi giorni articoli per provare a salvare l'attività di Leonardo. Movimento di solidarietà accompagnato anche da una raccolta fondi. Adesso si riparte innanzitutto dalla grande tenacia, ma più che altro si riparte principalmente dall'enorme solidarietà che sto ricevendo in questi due giorni da quando è stato pubblicato questo post su Facebook. Si ripartirà da una raccolta fondi, si riparte già da una serie di colleghi e altri negozianti di dischi che stanno spedendo dischi per supportare, e quindi si stanno privando di merce del loro store per supportare in pieno il Black Marmalade. Ripartiremo da qui, piano piano, magari con altre velleità, con un'umiltà ancora maggiore rispetto a quella che abbiamo avuto sino adesso, perché la tangibilità dell'affetto concreto che stiamo ricevendo è veramente estremamente commovente. Solidarietà da parte anche del Comune di Pesaro? Solidarietà in prima persona dal Comune di Pesaro e principalmente dalla persona di Daniele Vimini. È stato uno dei primi sabato mattina sul Presto, appena visto il post, a chiamarmi e a dirmi non ti preoccupare, in qualche modo vedremo di risolvere questa situazione. Ci siamo sentiti in queste ore, raccordati insieme a Leo, insieme al Circo del Mangaroni, insieme a tanti che vorrebbero dare una mano per cercare di tenere altra informazione su questa cosa e fare in modo che ci sia la giusta tensione nel dare tutti una mano e cercare di creare degli eventi, magari più eventi che possano aiutare a raccogliere fondi per evitare che questa situazione sfoci una chiusura ma invece fare rinascere a questo brutto evento un'opportunità nuova.